io vi raccontino a tutti questi tre giorni Grazie a tutti voi che siete intervenuti. La crisi climatica esiste, non è un unicorno. E quindi si dà un pizzino alla metà e poi lo si riapre. La vita quotidiana vengono prende. 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 Il divane è una testa concettuale, quindi ho voluto prendere il vento. La vita quotidiana vengono prende. La vita quotidiana vengono prende. La vita quotidiana vengono prende.